Sono risorse importanti sugli investimenti che riguardano in gran parte le infrastrutture, sono 132 milioni in tutto, 15 per l'ambiente e il resto per le infrastrutture, infrastrutture viarie tradizionali e soprattutto aduzione verso i nuovi ospedali. L'IRCA che si sta realizzando, l'ospedale di Fermo che è in realizzazione e i tre ospedali unici, Ascoli, Macerata e Pesaro, che hanno bisogno non solo di collocare nuovi servizi ma di collegare a questi al meglio il territorio. Investimenti stradali che oltretutto risolvono questioni storiche e permettono di migliorare la qualità dell'ambiente diventano opportunità turistiche. Se pensiamo al finanziamento del casello di Porto Potenza è evidente che dentro ci sono tutti i contenuti per le imprese che devono andare in autostrada, per i turisti che vengono sul territorio, per la viabilità sulla strada alle 16 e non ultimo il collegamento con la valle dei Chienti dove dovrà solgere il nuovo nosocomio. Quindi piaggiano in parallelo i progetti della realizzazione di nuove infrastrutture insieme ai servizi fondamentali come sono quegli ospedalieri di qualità. Viabilità sostenibile, ciclabili lungo la ciclovia adriatica e lungo il pettine che dall'aria interna porta fino al mare. Una visione nazionale è quella della ciclovia adriatica dove ci stiamo impegnando per connettere i tratti ciclabili già esistenti e realizzati, superare gli ostacoli più costosi che sono i fiumi principali e quindi poi lasciare in connessione quelli che sono i nostri investimenti con gli investimenti che gli enti locali fanno perché attraverso la mobilità sostenibile si diventa attrattori in termini turistici o altro. Con ad esempio il finanziamento che riguarda il collegamento fra l'area del Tronto, fra il ponte e la ciclabilità attuale, Abruzzo e Marche avranno un percorso di club importantissimo sul quale poter fare vera e propria promozione turista. Così come sono importanti le linee verso l'interno perché noi vediamo un turista che deve avere l'opportunità con la mobilità sostenibile di visitare questa regione che riesce in unica realtà a tenere insieme tanti tipi, tanti segmenti di turismo tipici del nostro paese. Un altro effetto importante riguarda i porti, i porti regionali, il dragaggio è uno dei temi che da sempre colpisce le persone, risorse importanti che permetteranno di sfangare, di togliere i sedimenti da molti dei porti regionali e dando una mano alle realtà locali e anche qui creando opportunità in termini di crescita e sviluppo. Sull'ambiente, protezione della costa, una parte, miglioramento della depurazione e quindi della qualità delle acque di balneazione. Ambiente e turismo anche in questo caso si saldano perché difendiamo infrastrutture o qualità ambientale ma restituiamo spazi utili all'attività turistica e economica della nostra regione. In un ventaglio di proposte che riescono a dare risposte a situazioni storiche a livello locale a collegare le valli, a collegare la valle del Chienti e quella del Potenza in maniera più efficace quella del Tenna, quella del Tronto, del Metauro col Foglia quindi tutti interventi che tengono insieme questioni storiche che rafforzano la nostra rete di infrastrutture che si collegano agli investimenti che stanno facendo di carattere strategico nazionale e che daranno opportunità di crescita e sviluppo alla Regione Marche. Questo è l'ultimo impegno significativo del Governo uscente 130 milioni che vanno nel cuore dei temi della nostra Regione e noi ci teniamo che queste risorse rimangano. Dal nuovo Governo, prima cosa, l'obiettivo è quello che tutto quello che abbiamo avuto, e parliamo di cifre estremamente significative se sommate a quelle del terremoto, quindi all'ordine dei miliardi per la nostra Regione e per i nostri cittadini e le vogliamo conservare. Poi chiederemo di continuare su questa strada che ha caratterizzato il Governo negli ultimi cinque anni cioè di trasferimenti importanti e di investimenti che mancavano da anni nel territorio nazionale per proseguire e completare quelle che sono reti essenziali per la crescita, per il sviluppo economico, per i territori.